per due volte vicinissimo al vantaggio e Lodi che continua ad attaccare con Lorenzo Giovannetti Nachera c'è compagno lontanissimo servito in questo momento parte a mille allora compagno li salta a tutti compagno come d'incanto una magia di Checco compagno ancora Montebello con De La Rete alla sua conclusione Grimaldi due tempi poi l'alza e schiaccia preziosissimo ancora in fase difensiva Giovannetti compagno di prima per Nahera per Facin intanto si riprende a giocare scollinata la metà del primo tempo Lodi avanti 1-0 Bozzetto in verticale per Fernandez subito dentro per Antonioni Torres per il Montebello che poi atterra troppo vistosamente Fernandez rigore Lodi parte Facin sotto il 7 2-0 Lodi Ale Facin il moschettiere giallorosso De La Reta dalla distanza si allunga ancora Grimaldi parte con De La Reta che però si dimentica la palla allora Fernandez bel numero di Fernandez conclusione respinta poi Nadini Occhio a checchetto dentro per Zordano Grimaldi ancora presente e in questo momento piuttosto in controllo della partita Nahera compagno per Facin troppo debole operare bene Sfera 4-3 Lodi Antonioni c'è lì il bastone lo tiene vivo ancora Nadini prova da sotto le gambe anche lui ne ha avute parecchie di occasioni in questa partita qua bel recupero di Fernandez Giovannetti ancora per Fernandez adesso si arriva il 3 Pipe Fernandez bellissima azione di ripartenza dell'Odi e perfetta l'esecuzione di Filippo Fernandez un giocatore che magari sarà meno appariscente di altri ma estremamente utile Quanto Nioni di Lareta Grimaldi di misura di Nahera di Lareta checchetto per Zordano Grimaldi due volte Netti che ha una buona intuizione ma la palla è larga poi però recupera tra gli applausi Sfera prova a dare un tiro è improprio va in gol Giovavi Beach Party 4 a 0 Lodi Lorenzo Giovannetti due super sfide alle quali però l'amatori si sta sta arrivando davvero bene confermando dopo la prestazione di Valdagno la vittoria di Valdagno intanto qua della reta terra faccina e si becca il blu Pablito Nahera contro Carlo Silva le sue finte la alza e la respinge però Carlo Silva giallorosso Facin qualche difficoltà nel controllo e poi il fallo su Ramiro Torres Ramiro Torres contro Grimaldi Fischiarago parte la mette vicina al palo ma manca il tiro dall'altra parte Zordani poi va via Bozzetto che lo atterra e c'è il rigore Schiavo contro Grimaldi parte Schiavo fuori inviolata anche in questo caso la propria porta poi fallo di Schiavo su Nahera parte compagno Silva si distende l'alza compagno cerca il tiro più pulito il Lodi Nadini compagno Silva un miracolo della reta bel numero su Facin poi alza e schiaccia e Schiavo rientra bene sulla sfera l'ultimo tiro ce l'ha forse il Montebello che segna con Pablo Torres proprio sulla sirena e non la prende bene né Grimald né Bresciani per questo gol del 4-1 grazie a tutti